buonasera cercherò di parlare forte così mi dite che mi sentite bene questa sera pensavo di fare la paura del futuro perché abbiamo fatto la paura di ammalarsi la paura di che si ammali qualcun altro abbiamo visto una serie di situazioni anche il nostro medico l'ultima volta abbiamo lavorato col medico interiore e questa sera vorrei proporvi una tecnica che alcuni di voi magari conoscono chi ha fatto già i corsi con me ma che riguarda la nostra capacità di proiettarci nel futuro e di vedere noi stessi nel futuro creando una connessione con questa parte di noi che ovviamente andremo a scegliere come molto benestante in tutti i sensi nel senso economico nel senso affettivo nel senso di vibrazione elevata quindi una persona felice che ha realizzato il meglio della sua vita quindi usando questa tecnica noi possiamo in qualche modo contribuire in maniera molto importante alla creazione del futuro che vogliamo invece di lasciare che il futuro venga costruito in automatico dal nostro subconscio e ancor peggio semplicemente da quello che succede fuori dall'inconscio collettivo chiaramente il futuro collettivo lo creiamo tutti insieme quindi è anche per questo che facciamo queste meditazioni insieme perché più siamo uniti nella visualizzazione di un futuro positivo più diamo forza a questa opportunità a questa potenzialità vi ricordo che siamo tutti verso il futuro nel momento della pura potenzialità si applica la pura potenzialità e quindi con la nostra mente possiamo in qualche modo contribuire alla scelta tra i vari scenari possibili di quello che ci piace di più o comunque quello su cui noi focalizziamo di più la nostra attenzione quindi se ci concentriamo tantissimo sul futuro negativo purtroppo contribuiamo alla creazione di quel futuro quindi mi auguro che stasera insieme a me facendo questo esercizio riusciremo tutti a visualizzare un bellissimo futuro per tutti quanti io prima di cominciare vi chiedo magari di chiarirvi anche solo mentalmente non c'è bisogno di scrivere niente qual è la paura più grande che avete per il futuro se è una paura economica una paura di non stare bene fisicamente una paura può essere qualsiasi tipo di paura però riferitela alla vostra vita non a un legame o una cosa particolare con una persona specifica e poi vi chiederò ovviamente durante la meditazione di visualizzare invece quello che volete al posto di questa paura cioè l'attenzione sulla paura deve restare per un attimo per poterci consentire di applicare la legge di polarità quando abbiamo capito qual è la nostra paura ci spostiamo il più velocemente possibile sul polo opposto perché sappiamo che quella è la cosa che veramente vogliamo l'opposto di ciò di cui abbiamo paura a questo punto nella meditazione vi chiederò di collegarvi con quella parte di voi del futuro la voi stessa voi stessi del futuro che ha realizzato quel sogno quell'ideale quella quel desiderio di vita migliore positiva bene quindi questa è un po l'unica parte introduttiva come vedete la teoria è molto la teoria è molto rapida vi chiedo di passare direttamente a chiudere gli occhi e tutti insieme facciamo questa meditazione vi saluto vedo tante persone conosciute ecco vi ho creato questa immagine cominciamo a chiudere gli occhi e facciamo un bel respiro profondo e fuori l'aria respirate bene bene fino in fondo inspiriamo una seconda volta in profondità e fuori l'aria un terzo respiro profondo e fuori l'aria mentre io parlo continuate a respirare magari potete passare da una respirazione profonda una respirazione più normale ma tenete l'attenzione sul vostro respiro anzi la prima cosa che facciamo è proprio quella di ringraziare la vita perché in questo momento stiamo respirando l'attenzione il respiro è veramente importantissima per creare la nostra base di gratitudine e consentirci di essere in una vibrazione sufficientemente alta per procedere con questa visualizzazione immaginiamo quindi di mandare la luce solare di questo piccolo sole che è sopra la nostra testa dentro alla nostra testa con l'ispirazione e di far uscire con l'ispirazione tutti i pensieri negativi e anche tutte le emozioni negative che ci stiamo portando dietro in questi giorni o nelle ultime ore tutte le nostre paure tutto ciò che ci sconnette ci tiene lontani dalla sorgente la sorgente di pura gioia di puro amore a cui siamo costantemente connessi ma della quale ogni tanto non ci rendiamo conto e quindi ci allontaniamo vi ricordo che la paura e le emozioni negative non sono altro che buio quindi lontananza dalla luce nel momento in cui noi ritroviamo il nostro collegamento con la luce i dubbi le preoccupazioni e le paure spariscono quindi da ora in poi in questa meditazione parleremo soltanto di luce e di emozioni positive perché vogliamo concentrare la nostra attenzione sull'opposto delle nostre paure vi chiedo pertanto di ricordare se avete segnato qual è la paura più grande che sentite e immediatamente chiedetevi cosa voglio invece per concentrarvi su una visione di una vita felice che desiderate nel vostro futuro ringraziamo questa occasione di clausura che ci consente di capire di che cosa abbiamo veramente bisogno che cosa vogliamo veramente e quali sono invece le cose inutili che siamo pronti a lasciarci alle spalle una volta che potremo tornare a scegliere cosa fare della nostra vita continuiamo a immaginare di respirare la luce la luce entra dentro la nostra testa e colpisce ogni cellula del nostro cervello trasformandola rivitalizzandola facendola sentire più gioiosa e felice ogni cellula tutte le funzioni del corpo umano e quindi possiamo immaginarla come un piccolo esserino che improvvisamente colpito dalla luce ritrova la sua gioia e comincia a vibrare una vibrazione alta positiva trasmettendola a tutte le cellule intorno la luce poi scende scende nella nostra gola e dovunque passa illumina e rilassa e rende felici scende giù nelle nostre spalle pian piano raggiunge il nostro petto giù dalle braccia raggiunge i gomiti e si dirige verso le mani e la punta delle dita scende ancora dentro l'interno del nostro corpo e invade completamente tutti i nostri organi interni lo stomaco il fegato l'intestino ovunque sentiate un piccolo dolorino un fastidio riempite quella zona con la luce perché la luce è amore e guarigione continuiamo a respirare questa luce meravigliosa che proviene dal sole della nostra anima e mandiamola ovunque pian piano giù giù nelle gambe e arriva alle ginocchia purifica e rilassa scende giù verso i piedi talloni il piedi le dita dei piedi e purifica e rilassa ora siamo come una piccola lampadina o una grande lampadina perché vibriamo luce da dentro verso l'esterno abbiamo acceso i nostri filamenti luminosi interni e stiamo creando un'aura di luce tutto intorno a noi da questa posizione di luminosità possiamo collegarci attraverso il nostro primo chakra facciamo partire un raggio luminoso che va attraverso la sedia va verso il centro della terra e ci collega con il centro della terra e in alto dalla testa facciamo partire un raggio di luce che ci collega verso l'alto verso il cielo siamo diventati un'antenna che collega il cielo e la terra e questa è la nostra funzione principale riconosciamola siamo anime che portano sulla terra una missione dello spirito siamo luminosi e collegati quindi siamo connessi alla sorgente e dalla sorgente noi possiamo ricevere solo luce e amore da questa situazione vibratoria privilegiata possiamo partire in un viaggio immaginario volando via da questa sedia fino al piano dell'anima un piano dove noi andiamo sempre a fare le nostre visualizzazioni e le nostre meditazioni immaginate di essere in questo mare di luce come quello della foto che vi ho messo dove vedete un orizzonte lontano con un sole e questo mare di luce di fronte a noi rappresenta il piano dell'anima siamo tutti lì tutti insieme e vi chiedo di guardare nella direzione di quell'orizzonte perché ora da laggiù faremo arrivare quella parte di noi che già vive nel nostro futuro immaginiamo cosa vogliamo essere tra tre o cinque anni immaginiamo di avere tante possibili scelte di fronte a noi alcune di queste vie sono vie poco luminose e dal fondo dell'orizzonte vediamo arrivare un gruppo di persone che siamo tutte noi siamo tutte vite alternative siamo noi stessi nelle nostre vite alternative del futuro alcune di queste noi stessi sono più luminose altre meno quindi anche senza sapere esattamente a quale vita corrispondono prima di tutto scegliamo le tre più luminose e lasciamo indietro tutte le altre che ci sembrano più grigiastre vediamo avanzare queste tre parti di noi ciascuna di loro rappresenta un futuro diverso guardiamole meglio mentre si avvicinano lungo il mare di luce e ci stanno venendo incontro e al momento in cui si stanno avvicinando e sono a pochi passi da noi scegliamo quella veramente più luminosa di tutte quella che ha la sfera più grande più luminosa di una luce bianca pulitissima, pura e che ha un sorriso una vibrazione meravigliosa che traspare felicità, amore, gioia lasciamo quindi indietro le altre che salutiamo volentieri e ci facciamo avvicinare solo dalla noi stessi nel futuro più felice e più luminosa salutiamola con grande cordialità è venuta dal futuro qui in questo momento verso di noi per aiutarci a diventare lei a scegliere quella strada che ci dà quella luminosità ringraziamola quindi per aver fatto questo e mettiamoci di fronte a lei chiedendole alcune domande possiamo chiedere mi fai vedere cosa c'è nella tua vita che ti rende così felice o che cosa in realtà il contrario cosa sei riuscita a creare di positivo e di bello nella tua vita riuscendo a essere così felice usando questa vibrazione alta che sento in te questa vibrazione di gioia di amore dove non c'è spazio per nessuna parte di buio soltanto luce e adesso ciascuno di noi può immaginare entrando in contatto con questa parte di noi il suo futuro desiderato lasciamo andare la fantasia vediamoci in quale casa abiteremo quali sono le persone che saranno intorno a noi tra tre o cinque anni che tipo di lavoro o di attività faremo che hobby avremo possiamo anche guardare la nostra situazione economica immaginare di guardare un estratto conto bancario dove sicuramente dato che siamo alti di vibrazione avremo creato una situazione di abbondanza economica e quindi ci darà soddisfazione vedere quelle cifre possiamo vedere di avere al nostro fianco una persona che ci ama molto che ci vuole bene che condivide la sua vita con noi oppure possiamo vedere chi desidera un bambino può vedere un bambino chi desidera qualche altra cosa degli hobby particolari o una realizzazione di un progetto particolare di vita o di lavoro può anche immaginare di essere in una situazione lavorativa o progettuale dove ottiene dei riconoscimenti è molto bello chiedere all'universo attraverso queste visualizzazioni ciò che vogliamo veramente e concentrare la nostra attenzione solo su ciò che vogliamo siamo noi che creiamo la nostra realtà con la nostra vibrazione adesso che la nostra parte di noi ci ha fatto vedere questo futuro meraviglioso chiediamole di unirsi a noi e di fondersi con noi affinché possiamo sentire qual è il livello vibratorio giusto che corrisponde alla creazione di quella realtà gioiosa chiediamo a questa parte di noi sorridente e luminosa di abbracciarci e di fondersi con noi sentiamo il calore di questo abbraccio e sentiamo la vibrazione incredibile che ci trasmette questa figura che siamo noi nella nostra versione migliore nel futuro sentiamo come la vibrazione è diversa sentiamo a tutto a tutto spiano nel nostro corpo come questa vibrazione ci fa cambiare la nostra vibrazione da cui eravamo partiti e come sia facile attraverso questo modalità entrare in contatto con la gioia la speranza l'amore le emozioni più alte e sentire che queste ci porteranno nella direzione dell'ottenere la vita che vogliamo restiamo restiamo lì ad assaporare questa vibrazione elevatissima di luce e in questo abbraccio in questa fusione sentiamo che ci stiamo trasformando e innalzando a livello di luminosità in ogni cellula del nostro corpo adesso ringraziamo questa parte di noi che viene dal futuro la salutiamo e la lasciamo andare ma le chiediamo un ultimo favore di connetterci con lei alla fine della nostra vita quando saremo molto molto anziani e vogliamo vedere un messaggio avere uno scambio con noi stesse nel futuro alla fine della nostra vita ci immaginiamo quindi di vedere questa persona che siamo noi luminosissima e sorridente un po' vecchina che ci sorride e ci dice un messaggio importante grazie per avere scelto questa vita meravigliosa da quel punto in poi quello è stato il momento più importante il momento più bello che ti ha consentito di arrivare qui a questa età in questa condizione di salute fantastica con tanti ricordi bellissimi e una grande gioia nel cuore ringraziamo anche la nostra noi stessi nel futuro vecchina le salutiamo tutte e due le vediamo pian piano sparire verso l'orizzonte ma resta con noi questa vibrazione e questa visione di cosa possiamo raggiungere nei prossimi tre o cinque anni teniamola sempre con noi nei prossimi giorni e poi se vogliamo possiamo in qualsiasi momento ora che abbiamo stabilito il contatto chiamare questa noi stesse nel futuro e chiederle di tornare qui da noi per riconnettersi e ritrasmetterci questa vibrazione alta per consentirci di non deviare da questo cammino che abbiamo scelto per consentirci di arrivare veramente lì dove abbiamo deciso di arrivare salutiamola con amore quindi che è laggiù in fondo all'orizzonte guardiamo quel sole laggiù lontano immaginiamo delle figure che spariscono là in fondo e adesso siamo pronti ci salutiamo tra di noi perché sul piano dell'anima siamo tutti insieme e siamo pronti a tornare indietro quindi voliamo via dal piano dell'anima e dal mare di luce torniamo su questa sedia su cui siamo seduti e con calma cominciamo a risentire il nostro corpo a rientrare in noi stessi e quando siamo pronti possiamo aprire gli occhi portando con noi questo ricordo bellissimo del nostro futuro e anche questa vibrazione alta che ci ha dato quella parte di noi che ha creato e ha saputo creare quel futuro meraviglioso vi auguro dei giorni bellissimi introspettivi che vi diano tante idee e ci sentiamo a domenica prossima ciao a tutti